Giovedì 25 settembre, Santa Aurelia, è il 268esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 97 alla fine. Il sole sorge alle 7.01, tramonta alle 19.03. La luna si leva alle 8.09, tramonta alle 19.29. Giunge a Venezia Michelangelo Buonarrotti. Fuggito da Firenze, che lo aveva dichiarato ribelle, l'artista si trattiene per circa due mesi nella città dei Dogi, trovando asilo e quiete all'isola della Giudecca, dove sarà rifugiato, come gli iscrisse, per vivere solitario. Sabato 27, nel pomeriggio e domenica mattina, porte aperte per visitare gli impianti di Contarina. A ogni famiglia, un sacchetto di terriccio omaggio. Intrattenimento per i bambini, con laboratori di recupero e il gruppo Gli Alcuni. Vi aspettiamo all'Ovadina di Spresiano e a Signoressa di Trevignano. Le previsioni per domani. Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature in calo leggero o moderato di notte e in aumento leggero o moderato di giorno rispetto a ieri.